Movimento 5 Stelle e Sinistra Libertà presenteranno una mozione di sfiducia ad Alfano. La Lega Nord come si pone? Voteremo contro la mozione di sfiducia presentata da 5 Stelle e da SEL. Noi abbiamo ascoltato l'informativa di ieri pomeriggio da parte del Ministro Alfano. Certamente ci sono delle parti che sono risultate oscure e in alcuni momenti anche imbarazzanti perché in effetti abbiamo contestato il fatto che sia il Ministro degli Esteri e il Ministro Alfano potessero sapere effettivamente quello che è successo. Abbiamo contestato anche il fatto che comunque non sono state tutelate due persone, soprattutto una minore di 6 anni. Questa vicenda kazaka ha dei toni quindi in ombra che dovranno essere verificati. Certo è che la responsabilità non può essere una responsabilità individuale del Ministro ma è una responsabilità collettiva. L'abbiamo detto fin da subito che il grande assente ieri pomeriggio era il Presidente Letta e il Ministro Bonino. Quindi noi assolutamente non vogliamo colpevolizzare l'azione del Ministro Alfano ma vogliamo una risposta certa da parte del Presidente Letta che...